Il progetto Mondeo punta alla perfezione automobilistica, per questo oggi Mondeo compie un ulteriore passo avanti. Il progetto Mondeo Il lungo piacere di caffè, oggi sulle confezioni da 100 grammi, impaglio 100.000 coppie di tazze rosse, cancella e vinci. Le forze dell'ordine sono ancora impegnate. Non fare follie, dici cosa vuoi. Voglio una cassaforte che questa è chiusa, e poi voglio un biglietto d'aereo, anzi no, un aereo, no no no, un treno, un trenino, non ho mai avuto un trenino, neanche io. Certo che pure sti genitori. Pagine gialle, il giallo, con tutte le soluzioni. Un trenino, io non ce l'ho mai avuto un trenino. Imprevisto e imprevedibile? Palpiturti dalla carta blu. Se ce l'hai, hai la soluzione. Se non ce l'hai... Ai, 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 ai. Guardi, mi si è rotta la lavatrice, eppure ho usato l'anticalcare. Quello sbagliato, perché non è efficace contro il calcare di magnesio. Usi Calfort pastiglie ad ogni lavaggio, e la sua lavatrice sarà protetta anche contro il calcare di magnesio. Con Calfort. Mi piaci. Ti voglio. Sembra incredibile, ma sono cotta di re. Dado star. E la frittata è un'estasi di sapore. Mi piaci. Cosa ci fa con il telefono di mia figlia? Quello lì è il mio telefono. Da 20th Century Fox presenta... Io ho conosciuto quell'uomo stamattina, e sono stata odiosa con lui tutto il giorno. Michelle Pfeiffer. George Clooney. Un giorno per caso. La cucina mediterranea ha un cuore nuovo. Pasta cuore. Tanto buona quanto sana. Buona e sana è sempre al dente, perché solo pasta cuore è fatta con tutte le parti più preziosa del grano d'uno. La semola, il germe, la fibra chiara. Pasta buona, pasta sana. Pasta cuore. Per tutti, tutti i giorni. Gianfranco, industriale tessile, tiene molto al suo lino. Paola e Sofia ha cotone e seta. E Berta ha la sua lana. Fluvia di Rex, fatta per essere una di casa. Bella scuola. Con Nescafè, il lungo piacere di caffè, oggi sulle confezioni da 100 grammi, impaglio 100.000 coppie di tazze rosse. Cancella e vinci. Per me la fedeltà è tutto. O De Cecco o niente. Di De Cecco ce n'è una sola. C'è un feeling. C'è Heineken. Dalla ricerca Whitehall, Multicentrum. L'integratore completo. 31 vitamine e minerali indispensabili. Per stare bene e vivere meglio, Multicentrum. L'integratore completo dalla A allo zinco. Oggi anche in formato famiglia. Mamma mia che giornata, ottone di fila senza me e alza la testa un attimo. Ma cosa l'hanno fatto? E se le sei, è l'ora andata a casa. Ah Giovanni, lo sai che ti dico? Io sto permaflex amico ho capito tanto bene. Ma devi approfondire un po'. Quasi quasi mi faccio un'oretta straordinaria. Anzi, fammo proprio un'ora e mezza. Certo Mario, te non ti risparmi mai eh. Oh, quando si tratta di lavorare. Chi ha problemi di udito si sente isolato. Ma non è solo. Perché Amplifon è vicino. Benvenuto all'Amplifon. Provi per un mese senza impegno. Certo, grazie. Ti trovo proprio bene. È che mi sento bene. Amplifon, diritto all'udito. Cempio. Lo sport. L'albero. Lorenzo 1997. L'albero, il nuovo album. 18 nuovi pezzi. 80 minuti di musica. Lorenzo 1997. L'albero, il nuovo album. Invitatemi a cena. E fatemi vedere di che pasta siete fatti. Di De Cecco ce n'è una sola. Ah, scusate un momento. Sono appena arrivate le ultime notizie sul fatto del giorno. Il mondo continua a rimpiccolirsi. Ieri è successo all'Empire State Building e alla Torre Fale. Ci comunicano ora da Londra che il Big Ben è diventato il Little Ben. Sembra proprio che tutto stia diventando minuscolo. Smentendo voci insistenti, Ericsson declina ogni responsabilità, ma fonti ben informate accennano al lancio di un nuovo telefono cellulare. Ericsson GF 788. Così piccolo che vedrete tutto in un'altra prospettiva. Scegliamo le fragole più deliziose. Confetture Santa Rosa. Deliziate con la natura. Ben tornati! Oggi c'è un coccolino tutto nuovo. Coccolino canti in fiore. È così fresco e naturale.